allora noi adesso dobbiamo cercare di capire cosa succede quando prepariamo l'impappata di cozze intanto l'olio l'olio caldo con l'aglio estrae quelle parti aromatiche che si sciolgono nei grassi e che danno gli aromi e sapori appunto e lo stesso fissa gli aromi come quelli del pepe poi l'altro punto fondamentale che è chimica è la cosiddetta reazione di formazione degli esteri tra i grassi e un alcol e quindi le sostanze profumate di solito vengono fuori così non per niente c'è chi dice che mette un po di vino anche quando prepara il brodo perché viene più profumato di fiori basta